Ne ho abbastanza di questa assurdità, me ne torno a casa, diritto a casa. Quel coniglio, che mi importa dove va dopo tutto? Se non fosse stato per lui io, foresta di Tulcei. Strano, non me la ricordo. Vediamo un po'. Oh! Oh no, no, per favore, basta assurdità. Dunque, se son venuta per di qua, dovrei anche tornare per di qua. Oh, chiedo scusa. Quando tornerò a casa, scriverò un libro su questo paese. Se mai, non riuscirò a tornare a casa. Oh, scusatemi! Nessuno di voi saprebbe dirmi... Eh, non importa. Oddio, si sta facendo terribilmente buio. E tutto è così strano qui. Sarò davvero contenta di uscirne fuori. Oh! Sarebbe pur bello se una volta tanto qualcosa qui avesse senso. Non calpestare i palmipedoni. I palmipedoni? Oh, buon sentiero! Ah, si è lodato il cielo. Oh, lo sapevo che ne avrei trovato uno prima o poi. E se mi ha fretto, forse arriverà a casa in tempo per il tè. Ah, chissà come sarà contento, resta di vedermi. Non vedo l'ora di... Oh!